Sapete che nella giornata di ieri, per la prima volta dopo tre mesi, in Campania non abbiamo registrato neanche un contagio, zero contagi. Non c'è ovviamente da illudersi, noi avremo sicuramente nei prossimi giorni l'individuazione di uno, due, quattro, tre contagi. Oggi continueremo la nostra campagna di screening su alcuni settori in particolare, abbiamo deciso per esempio di fare uno screening oggi sulle commissioni scolastiche che saranno impegnate per gli esami di Stato, vogliamo dare tranquillità alle famiglie, agli studenti. Avvieremo nell'ultima fase di agosto, inizio settembre, uno screening di massa su tutto il personale scolastico. Campania sicura, scuola sicura, faremo credo oltre centomila test rapidi e quindi è prevedibile che ci sia qualche caso qui e lì che venga fuori. Ma la cosa importante è che non abbiamo più nessun focolaio in Campania e quindi aver avuto per la prima volta zero contagi in Campania è qualcosa che ci riempie di grande soddisfazione, perché vuol dire che è stato fatto un lavoro importante. Abbiamo detto alcune settimane fa, riaprire tutto, riaprire per sempre. Ho anche aggiunto, noi non perderemo un minuto di tempo quando avremo condizioni di tranquillità sanitaria. Oggi abbiamo una condizione di maggiore tranquillità sanitaria e soprattutto abbiamo avuto una decisione del governo che ha aperto la mobilità in tutta Italia. Quindi diventa sinceramente assurdo tenere delle chiusure mentre si muove il mondo intero. Allora, nella giornata odierna, credo fra pochissimo sarà pubblicata sul bollettino una nuova ordinanza, vi anticipo un po' i contenuti. Abbiamo deciso che da questa sera possano ripartire le attività dei cinema all'aperto, dei drive-in. Per quanto riguarda i bar sarà possibile l'attività di musica di intrattenimento senza ballo, non sarà sconsentita ovviamente la collocazione di amplificatori fuori dei locali o di musica fuori dei locali per evitare assembramenti. Prolunghiamo l'orario di apertura dei bar fino alle 2 di notte ma manteniamo il divieto di vendita di alcolici per asporto, chi si siede al tavolo o va al banco, nessun problema, ma manteniamo alle 10 di sera l'orario consentito per vendita di alcolici e superalcolici per asporto. Per quanto riguarda i trasporti sulle isole avevamo limitato ai traghetti, oggi non ha più senso, quindi l'arrivo sulle isole sarà libero, faremo dei controlli a campione per quanto riguarda la temperatura o test rapidi. A cominciare dal lunedì prossimo consentiamo la riapertura delle aree gioco per i bambini, ripartono i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche i centri estivi per i bimbi nella fascia da 0 a 3 anni, ripartono anche i campi estivi. Anticipiamo di una settimana l'apertura di attività di wedding, i matrimoni, l'organizzazione dei matrimoni e di cerimonie consimili dalla prossima settimana. Ho detto si possono cominciare a prenotare convegni per i prossimi mesi, partono i servizi per la montagna, i servizi delle guide turistiche, insomma mi pare che riparta un po' tutto.